Ormai è da qualche giorno che ho un abbassamento di voce, una tosse che non mi fa dormire la notte, una tosse grassa e stamattina parlando con un mio carissimo amico, Caetano, mi ha detto guarda perché non usi le pastazze, sarebbero le carrube e mi sono ricordato che tempo fa sul mio canale avevo già fatto un decotto della nonna quindi lo voglio riproporre per chi si è iscritto dopo e non l'ho ancora visto quel video e quindi andiamo a fare il decotto decongestionante alle carrube, ovvero le pastazze, a giovinazzo si chiamano così Le carrube sono ricche di niacina, vitamina E, vitamina B, C, tiamina, vitamina A, potassio, calcio, fosforo, magnesio, sodio, ferro, zinco, rame, manganese sono veramente un portento dal punto di vista nutrizionale e servono, hanno proprietà emollienti, liberano in caso di tosse aiutano a liberare gli alveoli polmonari dal catarro e vanno bene per i problemi gastrointestinali, diarrea, dolori, osteoporosi, allergie, influenza, virus ecc sono veramente un superfood, per preparare il nostro decotto ci servono delle carrube, vanno bene anche secche, non vi preoccupate andremo a tagliare o a spezzettare, due vanno bene, le mettiamo in acqua, due foglioline d'alloro, una scorza di limone e dopo il miele mettiamo tutto a bollire, fate sobollire per 5-7 minuti, non di più ho fatto riposare il decotto, lo andiamo a filtrare in una tazzina, così va bene aggiungiamo abbondante miele, che ha effetti come sapete ben noti decongestionanti caldo ma non bollente, ha pure un ottimo sapore perché la carruba è dolce di suo il limone da quel poco di acidità e l'alloro accompagna il tutto fatene una, due al giorno, tanto non fanno male, non fanno per niente male spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo rimedio, ciao